Terzo turno, gara tra Bohemians Praga e Servette 2-2 all'andata a Ginevra il 24 novembre dell'82. A Praga si gioca l'8 di dicembre dell'82. Finisce 2-1 per la formazione di casa che va però sotto al 17esimo per la rete di De Castel. Qui un'occasione per il Bohemians, in maglia verde, attenzione al gol del 17esimo di De Castel. 1-0 fuori casa per il Servette che passerebbe il turno. Al 41esimo il pareggio del Bohemians lo segna Cermak, 41esimo 1-1. E all'88esimo, mentre vediamo altre azioni, qui incredibile, l'errore del Bohemians, nel secondo tempo arriverà poi il gol del 2-1. Stiamo vedendo tutte le immagini del secondo tempo, le tante occasioni di questa partita. L'1-1 premierebbe già il Bohemians che però usufruisce all'88esimo di questo rigore e Prilosni segna per il 2-1 definitivo di questa gara e passa il turno il Bohemians-Praga.